Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. E il Papa è andato proprio lì, il Papa è tedesco ed è andato in Germania, non nella sua Baviera che è sempre rimasta cattolica, ma a Berlino è cominciato il suo viaggio ed ha parlato al Parlamento tedesco, cioè al corpo politico della nazione più potente d'Europa. Il Papa ha fatto un discorso strabiliante per nitore, pulizia, forza logica, un discorso che va letto integralmente, molti giornali a venire, l'Osservatore Romano, il Foglio, domani pubblicheranno l'integrale del discorso. Un discorso strabiliante perché vedere un Papa, il Papa è un'autorità spirituale, è il capo della Chiesa, che con sapienza filosofica spiega ai deputati del Bundestag, della più grande nazione europea, che cosa significa la giustizia, è una cosa che genera una certa emozione e che cosa significa governare secondo giustizia. Il Papa ha cominciato tutto con una citazione della scrittura, Re Salomone deve fare una domanda al Signore e non gli chiede lunga vita, non gli chiede risorse finanziarie per competere con i mercati, come diremmo oggi, no! Gli chiede un cuore docile e la capacità di distinguere tra il bene e il male. La giustizia è poi questo, non è altro, ma questa giustizia non si può realizzare là dove la legge si fonda sulla rivelazione divina, per esempio nel mondo islamico. No! La Sharia! Questa giustizia si può realizzare e si è storicamente realizzata solo nel nostro mondo, nel mondo cristiano, dove i diritti della persona, la libertà dell'uomo, la libertà della coscienza, si sono progressivamente affermati e hanno dato origine alla modernità attraverso questo riconoscimento cristiano della legge di natura e della legge di ragione, che vuol dire che noi sappiamo in cuor nostro ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male, perché in qualche modo noi poniamo questa domanda, chi crede la pone direttamente a Dio, chi non crede la pone attraverso la sua coscienza a quella cosa misteriosa che è l'origine, l'origine del tutto. Il Papa ha fatto un discorso fantastico, veramente bellissimo e lo ha fatto non da vecchio curvo piegato dai drammi, anche dalle piaghe della Chiesa di oggi, che sappiamo tutti essere molti, la Chiesa ha assunto su di sé molte colpe, il clero, il suo corpo, anche la sua storia è piena di colpe, come riconobbe il predecessore di Benedetto Giovanni Paolo II. No, l'ha fatto con grande dignità, con grande mitezza, senza polemiche, accarezzando i deputati del Bundestag come un bambino farebbe con le bamboline di Norimberga, cioè con un grandissimo stile. Naturalmente, una parte dei deputati sono andati fuori a manifestare contro il Papa e chi vuole che la Chiesa autorizzi il matrimonio tra preti omosessuali, due si sono sposati ieri a Kreuzberg, e chi vuole che le donne facciano i vescovi, le vescovesse, come nel mondo protestante, e chi vuole il preservativo, e chi vuole la libertà d'aborto, e chi vuole dare l'ostia ai divorziati risposati, cioè a chi ha rotto un sacramento stabilito, uno dei pochi, direttamente da Gesù Cristo nel Vangelo. Insomma, vogliono tutto dalla Chiesa, vogliono le riforme, vogliono la collegialità, vogliono la democrazia, ce l'hanno con Roma, ce l'hanno col Papa. Perché vogliono tutte queste cose dalla Chiesa? Perché il Papa lo ha detto, se non ti limiti, se non sai distinguere il bene e il male, se non fai funzionare la ragione accanto, parallelamente alla fede, nella quale naturalmente il Papa è specialista, succede che diventi totalitario, che pensi che la giustizia sia la legge della maggioranza, e siccome oggi la maggioranza la pensa in un certo modo, tutti devono conformarsi e non c'è più niente di modificabile, bisogna fare quello che vuole la maggioranza. Senza polemiche, senza citare nell'aborto, nella contraccezione, nelle polemiche interne alla Chiesa tedesca, il Papa ha spiegato che tutto questo non è buono, che la Germania, la sua patria, Vaterland, ha conosciuto il totalitarismo, una forma di totalitarismo e il totalitarismo non va bene, ci deve essere uno spazio perché i cristiani e la Chiesa cattolica, uno spazio pubblico, continuino ad agire nel senso e nella direzione delle cose in cui credono, cose di fede, ma anche di ragione. Viva il Papa, buonasera, domani.